Expo Torre 2010, siamo allo stand Rubinetterie Teorema, siamo in compagnia del signor Milanello. Ecco, ci parli di questa azienda? Questa è un'azienda che parla da sola perché ha più di 100 anni di vita, che è un'azienda storica del comprensorio bresciano e che è qui proprio per testimoniare con il suo miglior cliente, con il cliente più importante d'Italia che è Ederocentro, la sua storia. L'azienda ha da sempre una produzione totale all'interno, quindi fonderia e tutte le lavorazioni ed in particolare si pregia del fatto che è un'azienda italiana al 100%, quindi tutta la componentistica italiana. Grazie. Ecco, in questo momento voi state promuovendo questo tipo di rubinetto a risparmio d'acqua. Ci vuole parlare di questo? Certo, noi stiamo proponendo un prodotto e una produzione, non solo un rubinetto, ma nella nostra gamma attraverso una serie di dispositivi e di controlli stiamo valorizzando quello che è il bene più importante del momento e cioè l'acqua. Quindi un concetto di ecologia sicuramente e anche di risparmio in termini economici. Noi promettiamo alla nostra clientela che acquistando un rubinetto intorno ai due anni uno riesce a recuperare il costo del rubinetto, oltre a fare chiaramente dell'ecologia. Beh, perfetto. Mi sembra un ottimo affare, un'ottima idea per il risparmio energetico e di acqua nell'ambiente. Grazie, buongiorno. Grazie. 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 Grazie a tutti.